Inaugurata a Sant'Agata di Puglia, la monumenta arte in cantiere, la mostra diffusa ideata dall'architetto Maria Piccarreta, segretario regionale del MIC Puglia, con il sostegno di Confindustria Bari, batte il contributo della Camera di Commercio di Bari. Valorizzate e discusse le monumentali sculture di sei grandi scultori del Novecento italiano e di alcuni cantieri di restauro, l'evento si è tenuto al castello imperiale di Sant'Agata di Puglia, dove è stata inaugurata anche la straordinaria opera di Mario Staccioli. All'inaugurazione hanno partecipato anche il segretario regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, il sindaco di Sant'Agata di Puglia, Pietro Bove, la figlia dell'artista Staccioli, Giulia, la curatrice della mostra Roberta Semeraro, il direttore artistico Roberto Benigni, il direttore esecutivo, architetto Loriana Dalpra, del segretariato MIC Puglia e l'architetto Paolo Lops di Ance Foggia. L'opera di Staccioli è una dei più importanti maestri dell'arte italiana del Novecento, verrà esposta fino al 3 febbraio nel castello imperiale di Sant'Agata di Puglia, dove il segretariato regionale del MIC Puglia sta effettuando un importante intervento di restauro. E' questo il senso della mostra diffusa Monumenta Arte in Cantiere, ossia far interloquire le opere più importanti dei più importanti artisti del Novecento italiano, con alcuni dei cantieri di restauro che il segretariato sta effettuando in tutta la Puglia. Fin dall'inizio l'artista Staccioli sceglie un linguaggio caratterizzato da una geometria essenziale e dall'uso di materiali semplici come il cemento e il ferro.